Benvenuti in Candino Candino è un'azienda svizzera fondata da Adolf Flury Hug, a Biel nel 1947, che produce orologi dallo stile semplice ed elegante. Il marchio è rimasto fedele ai canoni esigenti dell'orologeria svizzera, ma li ha declinati in una veste moderna focalizzata su tecnologia e design. Candino ha anche ampliato la propria gamma di orologi al quarzo con una serie dotata di funzioni supplementari. La storia è l'eccellenza di Candino Orologi, un marchio che continua a sorprendere e a conquistare il mondo dell'orologeria. Con la sua attenzione ai dettagli e la sua passione per la qualità, Candino Orologi rappresenta il meglio del lusso e dell'eleganza. Un marchio che non smette mai di stupire, con la sua storia e la sua capacità di innovare. Gli orologi Candino sono noti per la loro alta qualità e design moderno. L'azienda, grazie anche al supporto del gruppo Festina a cui appartiene, è in grado di realizzare ogni fase della fabbricazione di un orologio, ciò consente un livello di controllo maggiore e altissimi standard qualitativi. I prodotti Candino sono suddivisi per uomo o donna, ma tutti hanno delle caratteristiche in comune. Le casse degli orologi sono tutte realizzate in acciaio, con movimento Swiss made, vetro in zaffiro e resistenti all'acqua. Si differenziano, tuttavia, per colore del quadrante e tipologia di cinturino. Inoltre, Candino non solo offre movimenti al quarzo, ma anche dei precisi ed altamente affidabili movimenti automatici economici. In sintesi, gli orologi Candino sono sinonimo di alta qualità, precisione ed efficienza, grazie alla loro attenzione ai dettagli e alla loro passione per l'orologeria.